La vitica Valle dei Templi sotto il marchio di Louis Vuitton e di Versace è l'ipotesi alla quale lavora il sindaco di Agrigento Marco Zambuto sempre più alla disperata ricerca di fare cassa per il comune. Insomma l'idea è quella di trasformare l'immenso patrimonio storico archeologico lasciatoci in eredità dai greci in un marchio da cedere ai privati con un'asta pubblica. Zambuto ne ha parlato stamani nel corso di un'intervista radiofonica durante la trasmissione Klaus Condicio condotta dal giornalista Klaus Davi. L'idea non è affatto una provocazione ha sottolineato ma un modo per valorizzare i siti archeologici e il territorio. Un po' come sta facendo Diego della Valle, patron della TOS, sponsor del restauro del Colosseo a Roma. Un'operazione rilevante in tempi difficili come quelli in cui stiamo vivendo diventa una grande opportunità a proseguire il sindaco. Il brand della Valle dei Templi rappresenta un momento di valorizzazione del territorio ma anche di introito economico. È un simbolo internazionale spiegato ancora che potremmo affidare per periodi limitati nel tempo ai grandi marchi privati alle multinazionali in cambio di finanziamento al comune e al territorio a fini commerciali. Gli investigatori ha proseguito potrebbero sponsorizzare la ristrutturazione e la manutenzione oppure utilizzare il marchio della Valle dei Templi per firmare le linee dei loro prodotti. È un'idea da perseguire in accordo con la regione, ha proseguito ancora Zambuto, per valorizzare il nostro prestigioso sito archeologico e per garantire al territorio un importante ritorno economico. Il sindaco non nasconde il sogno dunque di vedere oggetti Louis Vuitton o Versace con sopra il logo Valle dei Templi. In tal modo, a concluso, si potrebbe sostenere per esempio la riedificazione del Tempio di Giove, il più grande della valle.